Snam Hack for Talent è per noi una nuova maratona del talento finalizzata a trovare nuovi ragazzi digital per dimostrare che un'azienda tradizionale come Snam vuole davvero fare la digital transformation, vuole puntare sui giovani per affrontare al meglio le nuove sfide del settore energetico. Le tre qualità di un talento di Snam sono passione, innovazione, energia. I ragazzi si sono sfidati su tre diverse tipologie di progetto. Digital innovation, digital workplace, business opportunity, know-how, sharing. Ho fatto un'iniziativa molto interessante in cui riesco a mettermi in gioco. Con la creatività e con l'innovazione ho avuto la possibilità di conoscere dei compagni di lavoro molto in gamba. Una giornata è stata intensissima, molto divertente. Carica di energie ed entusiasmo. Ci siamo occupati di implementare una soluzione che permettesse il benessere del dipendente all'interno dell'azienda. L'azienda ci ha selezionato come best team perché davvero abbiamo lavorato come un team coeso, aprendo l'opportunità a tutti di esprimere la propria opinione, di dare il proprio valore aggiunto. Come Slam abbiamo avuto la possibilità di entrare in contatto con dei talenti digitali, incontrandoli, conoscendoli e cercando di incastrare quelle esigenze aziendali per poterli invitare a trascorrere del tempo con noi in azienda per conoscerli meglio.